Filippo Contri L'opinionista del reality, ha iniziato il suo discorso sotto una foto in cui è ritratto il giovane concorrente insieme ad un cane, e ha esordito dicendo che non avrebbe voluto parlare del GF nel suo profilo, ma è talmente rimasto turbato da ciò che Filippo ha detto sul suo animale domestico che non è riuscito a trattenersi. Malgioglio ha spiegato quindi che per educare gli animali non bisogna usare dei metodi violenti, in quanto ci sono delle persone adatte che lavorano per queste meravigliose creature, e che sanno bene come farli comportare. Cristiano ha poi aggiunto che questi animali indifesi non hanno di certo bisogno di un padrone come Contri che li prende a calci, e altre cose del genere. Il braccio destro di Barbara D'Urso ha avuto anche da ridire sugli altri coinquilini della casa più spiata d'Italia. Grande fratello. Cristiano Malgioglio contro Filippo Dopo la denuncia dopo l'attacco contro Filippo Contri, Cristiano Malgioglio ha anche voluto difendere la conduttrice del Grande Fratello, chiedendo ai telespettatori di smetterla con questo accanimento ingiusto contro Barbara D'Urso, e ha aggiunto di cercare di essere tutto un po' più tranquilli. Ciò che accade nella casa infatti è solo responsabilità dei concorrenti, non certo della presentatrice, in quanto il suo cervello non è inserito nelle teste degli altri. Inoltre Malgioglio ha precisato che la gran parte dei reality sono così? Anzi, quelli che vanno in onda all'estero sono anche più terribili. L'opinionista ha concluso il suo discorso dicendo che comunque il suo grande fratello Vite era stato più divertente perché nella casa si respirava un'altra aria, forse più pulita. Filippo è stato denunciato dall'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente in seguito a delle dichiarazioni fatte insieme ad altri coinquilini sull'educazione, che ha riservato in passato al suo cane. Barbara tratterà l'argomento in diretta domani sera, in seguito anche allo sfogo del cantante. . 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